Tenendo conto degli esposti pervenuti in questura relativi al disturbo della quiete pubblica in ore serali e notturne, il questore Emanuele Ricifari ha emesso nei giorni scorsi un'ordinanza per intensificare i controlli da parte degli equipaggi delle Forze dell'Ordine. Da sabato scorso le volanti della Polizia di Stato hanno identificato 505 persone. Inoltre sono stati controllati 257 mezzi, tra cui ciclomotori e motocicli. Effettuate 5 perquisizioni personali, elevate 30 sanzioni al codice della strada per diverse violazioni, dalla guida senza patente all'incauto affidamento. Sequestrato un mezzo, elevate 3 sanzioni amministrative per ubriachezza. Denunciate 5 persone a vario titolo per lesioni personali, guida sotto l'influenza di alcol, porto di armi o oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. I controlli sono stati estesi anche a persone sottoposte a misura anticrimine, quali sorvegliati speciali e liberi vigilati. In totale 180 i controlli eseguiti nelle abitazioni per accertare eventuali violazioni alle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria. In una nota il questore Emanuele Ricifari, in merito agli schiamazzi notturni, evidenzia che il problema non è solo di polizia ma educativo, poiché riguarda soprattutto ragazzi anche al di sotto dei 14 anni. E nel caso in cui gli stessi incappassero nuovamente in successive identificazioni da parte della polizia, se ne potrebbe dedurre l'assenza di controllo familiare e pertanto sarebbe necessario coinvolgere i servizi sociali e il tribunale per i minorenni. I controlli continueranno nei prossimi giorni.